Combattenti, terra, mare, scelaria, capitenere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne in staglia, dell'espero e del regno d'Albaria. Ascoltate, Italia proletaria e fascista, e per la terza volta in piedi, forte, fiera e compatta, come non mai. La parola d'ordine è una sola. Categorica e impegnativa per tutti. Ezza, già frappola, ed accende in fuori, dalle Alpi, all'Oceano. Vincheremo! 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 Come on! Come, come on! Come, come on! Come, come, come on! Come, come on! Come, come on!